I medici non sanno esattamente se quel tipo di generico che andranno eventualmente a prescrivere ha una bioequivalenza vicina al 100% rispetto all'originale o molto lontana, come consente la legge, ricordavo, meno 20 più 25%, perché nella scheda tecnica dei farmaci generici non è previsto che venga segnalato qual è la bioequivalenza specifica di quel farmaco generico, questo sta solo scritto nei dossier di registrazione che ahimè non sono consultabili da parte di nessuno neppure da parte dei medici, quindi l'unico sistema che il medico ha per testare la validità di questi farmaci è provarli sul campo e vedere se funzionano, purtroppo diceva la letteratura segnala diversi casi di inefficacia o di efficacia minore di farmaci generici rispetto ai farmaci di marca, c'è stato un caso anche in Italia, ma anche in altri paesi, ad esempio con farmaci come ricordavo con ristretto indice terapeutico, ad esempio gli antiepilettici, molti pazienti che erano in trattamento con i farmaci di marca e che sono poi passati al trattamento con il farmaco generico hanno avuto nuovamente crisi epilettiche e quindi sono dovuti ritornare al trattamento iniziale, lo Stato in questo caso è intervenuto perché c'è stata una protesta da parte delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari e rimborsa il prezzo completo anche del farmaco di marca, questo però avviene solo in questo caso, non avviene per molte altre famiglie di farmaci in cui l'eventuale minore efficacia è difficile da evidenziare perché il paziente epilettico se la terapia non è efficace ha le crisi epilettiche, il paziente che ha la pressione alta, il colesterolo o altro il diabete avrà un minimo modesto aumento del colesterolo, della pressione e di altri esami del sangue che il medico spesso non avverte neppure perché i controlli vengono fatti più sporadicamente.